Buonasera e benvenuti a Falò, l'avete sentito nel sommario, 9 milioni di posti protetti sottoterra, ci fosse la necessità, tutta la Svizzera potrebbe andare al sicuro senza lasciar fuori nessuno, è un record che nessun altro paese al mondo può vantare, oggi naturalmente lo vediamo come un gesto di lungimiranza, in passato in proposito ci sono anche state delle discussioni. Buonasera e benvenuto a Mauro Gilli. Buonasera, grazie del vostro invito. Allora, esperto in sicurezza internazionale e tecnologie militari ed è ricercatore appunto presso il Politecnico federale di Zurigo. Parleremo dei bunker, parleremo del pericolo atomico che in molti in queste settimane hanno risentito, ma prima di vedere il servizio sui bunker svizzeri una considerazione riguardo all'attualità. Direi che siamo in qualche giorno di confusione, delle trattative di pace che un giorno fanno sperare e il giorno dopo sono smentite, una situazione sul terreno in cui prima sembra che i russi si ritirino e poi invece sembra che si spostino soltanto le truppe. A che punto stiamo? Si riesce a capire che cosa sta succedendo in questa fase? Come dice lei, la situazione è molto confusa. Il termine ritirata infatti ha dato adito a speculazioni che non sono del tutto corrette. Sicuramente il governo russo ha incontrato più difficoltà di quelle che inizialmente preventivava e la dichiarazione di una settimana fa di concentrarsi sulla zona orientale del Donbass lo conferma. Ciò detto, la guerra continua, gli attacchi anche nella parte più occidentale del paese sono continuate e purtroppo ad oggi non possiamo prevedere una fine dell'ostilità nel giro di poco tempo. Ecco, lei ha detto giustamente la guerra continua, quindi dobbiamo continuare a essere preoccupati. Possiamo capire in questo momento dove vuole arrivare Putin? Ho detto in altri termini, quale potrebbe essere il suo obiettivo visto da oggi? Ad oggi è molto difficile da capire. Nei primi giorni del conflitto era ragionevole speculare o inferire un obiettivo che era la capitale dell'Ucraina. Oggi questo non è più possibile, anche perché non sappiamo quanto queste dichiarazioni pubbliche riflettano veri obiettivi oppure tentino di influenzare i negoziati politici. Allora, io la ringrazio per questa prima analisi di quello che sta succedendo sul terreno. Noi adesso andiamo a quello che è il nostro vero tema iniziale di questa serata, vale a dire i bunker svizzeri che sono conosciuti in tutto il mondo. E allora vediamo sia quelli privati, ne avete avuto un assaggio nel sommario, che quelli pubblici nel servizio realizzato da Massimo e Lorenzo Cappon. Le prime strutture protette avevano comunque il nostro vero tema. come obiettivo quello che doveva essere la protezione dall'atomico. Quindi c'era questo spauracchio che oggi è tornato anche d'attualità per quanto riguarda la problematica del rischio atomico. Negli anni queste strutture spartane, quindi immobiliate con pochissimo materiale, ma che devono essere funzionali e approntate in pochissimo tempo, sono passate in strutture molto più evolute e che hanno conciliato le esigenze in tempo di pace con quelle che potrebbero essere in caso di evento bellico. Quindi per garantirne una funzionalità quotidiana, un utilizzo quotidiano, e che poi in cinque giorni devono essere trasformate nel caso in cui le autorità federali definissero che c'è un rischio elevato e quindi automaticamente le strutture verrebbero messe in prontezza. Un nuovo spettro si aggira per l'Europa ed è l'ultimo che molti avrebbero mai immaginato. Dal fronte orientale, tra Ucraina e Russia, la guerra è entrata in diretta anche nelle nostre case, con le immagini di devastazione, sofferenze e orrori che sembravano confinati in luoghi lontani o ai ricordi più dolorosi del secolo scorso. Con l'incubo delle sirene e dei bombardamenti aerei, con le notti negli scantinati e l'esodo dei civili in cerca di protezione e rifugio all'estero. Il paradosso della nazione che ha fatto della neutralità la propria bandiera è che in realtà la guerra non l'ha mai dimenticata del tutto. La Svizzera è anzi considerata la più preparata ad un allarme e la Costituzione prevede espressamente l'obbligo di un rifugio sotterraneo per l'intera popolazione. Nei bunker sotterranei, pubblici e privati, potrebbero sopravvivere in emergenza 9 milioni di residenti. Proprio in questi giorni drammatici, che vedono 4 milioni di persone in fuga dalla guerra, i rifugi allestiti dalla protezione civile nei vari cantoni, i posti di comando e le strutture sanitarie protette, potrebbero rappresentare un primo approdo temporaneo per i 50.000 rifugiati attesi in Svizzera, ai quali, eccezionalmente, è stato già concesso uno speciale diritto di soggiorno di un anno. Anche il Ticino ha attivato le proprie strutture di emergenza, aprendo ai profughi, per i primi tre giorni di asilo, il bunker da 220 posti letto, situato sotto le scuole elementari di Cadenazzo, dove il 14 marzo scorso già sono arrivate da Kiev le prime famiglie con bambini. A tutti i comuni del cantone è stato chiesto di prepararsi a questa nuova ondata di emergenza umanitaria, di coordinare i piani di protezione e assistenza già predisposti per la popolazione residente. Il Consiglio federale ha voluto dotarsi di questa polizia assicurativa in confronto della propria popolazione, obbligandola a costruire dei rifugi privati, dei rifugi pubblici, degli impianti che possono essere messi a disposizione della popolazione. Oggigiorno abbiamo compreso come questa funzionalità, questa prontezza elevata di queste strutture permetta l'accolta, ad esempio, di persone sfollate. L'ultimo caso è stato l'evacuazione di indemini, dove le persone che sono state evacuate dal villaggio sono state portate in quel di Quartino, accolte in un rifugio per più giorni, in maniera tale che poi trovassero una sistemazione definitiva in attesa di tornare al proprio domicilio. Oggi abbiamo anche la tipologia di Cadenazio, in cui accoglie appunto d'affluenza queste persone che richiedono asilo e ricevono il permesso S prima di confluire in centri regionali. La vocazione underground del popolo svizzero è nata sul Gottardo, quando durante la Seconda Guerra Mondiale il generale Ghisan teorizzò la strategia del ridotto nazionale. Un labirinto di gallerie fortificate scavate nel granito avrebbe reso il passo inespugnabile e ospita ancora oggi strutture militari segrete. A partire dagli anni della Guerra Fredda e di una legge del 1963 ancora in vigore, oltre ai bunker militari concentrati sulle montagne, in Svizzera sono stati costruiti anche 360.000 bunker anti-atomici privati, 9.000 rifugi pubblici sotterranei, 800 posti comando. In Ticino i bunker sotto le abitazioni private sono 13.000, capaci di ospitare 300.000 persone, i rifugi pubblici 120, Ci troviamo all'ingresso di quello che è il posto comando del Consiglio di Stato. Quando si vedono queste strutture, si vedono ancora elementi vetusti, in quale ad esempio dei telefoni da campo, che però in ogni caso funzionano in ogni qualsiasi situazione, anche nel caso in cui ci fosse una problematica legata alla guerra elettronica. Mentre nel caso in cui avessimo tutti i sistemi a disposizione, abbiamo le classici citofoni che funzionano tranquillamente. I primi studi nel dopoguerra definivano come le persone preferivano andare con una evacuazione verticale, quindi spostandosi dal proprio domicilio nel proprio rifugio. Poi in seguito, analizzando la situazione, si è deciso che comunque dei rifugi collettivi, quindi dei rifugi pubblici, permettessero una migliore gestione di quello che sono i fabbisogni, ma anche dei fabbisogni di socialità. Quindi questo bisogno primario di comunicare, di informarsi, poteva essere meglio gestito grazie alla protezione civile, che avrebbe dato garanzia di manutenzione, di sussistenza, di accolta, di assistenza, e poi di gestione di nuclei, che sono i rifugi pubblici, che variano da 200 a 250 persone, e quindi gestire in questa maniera centralizzata. Da questa parte troviamo gli accantonamenti, quindi la parte in cui le persone hanno alloggio. Si entra nella parte comune di quello che è la parte di refettorio, quindi all'interno vengono svolti sistematicamente dei corsi anche della protezione civile, la quale si occupa generalmente di gestire quello che sono gli impianti, i rifugi pubblici, garantirne la manutenzione, il funzionamento e l'approntamento in caso di bisogno. La nuova strategia, avviata nel 2006 con la legge sulla protezione civile, è quella di rendere i rifugi sotterranei utili anche in tempo di pace, così da mantenerli operativi e pronti all'uso in pochissimo tempo. È stato così anche per il comando di Rivera, utilizzato nell'emergenza Covid come centrale del numero verde cantonale, o per la struttura di tesserete, trasformata in centro di vaccinazione per i più anziani. Qui si entra veramente nel cuore, è il cervello dell'operazione, e qui è la sala condotta. La sala condotta vuol dire che è presidiata dal capo di stato maggiore cantonale di condotta, tutti i parli della protezione della popolazione che devono essere presenti, inclusi i servizi tecnici, e da qua vengono gestite e ordinate tutti i compiti che devono essere assegnati sul territorio. Sul piano tecnico, i rifugi sono a prova di atomica e di radiazioni, ma garantiscono protezione, e sono stati già effettivamente usati in questo senso, anche da sostanze chimiche disperse nell'aria. Incendi come quello recente del Gambarogno, catastrofi. Il sistema tradizionale di allarme è affidato alle 7200 sirene che coprono l'intero territorio nazionale, ma oggi anche all'app telefonica Alert Suisse. A seconda della situazione, la protezione della popolazione è affidata ad uno stato maggiore di crisi su tre livelli, comunale, cantonale o federale, che coinvolge anche polizia, pompieri, soccorso e protezione civile. Come dobbiamo comportarci nel caso in cui sentiate le sirene d'allarme? Il suono continuo è l'allarme generale, e qui l'asticella è messa molto alta. Si sgancia un allarme generale allorquando la salute e la sopravvivenza di molte persone sono messe in pericolo. Nel caso di un allarme generale, la popolazione deve attenersi a quanto previsto. Esiste un mandato di prestazione dato dalla Confederazione all'ente pubblico, per cui alla società radio televisiva a Svizzera, che comunicherà alla popolazione il modo di comportarsi. E poi, come sempre, bisogna in ogni caso ascoltare la radio, per cui, al giorno d'oggi, è importante avere ancora la vecchia radiolina con le batterie per poter ascoltare le comunicazioni. Arrivato nel 2019, per noi l'allarme Svizzera è diventato uno strumento di uso quotidiano da parte degli operatori di centrale, usato allorquando ci sono necessità di informare la popolazione. Un'esperienza positiva è stata fatta durante il periodo del Covid, dove tante informazioni venivano mandate su questa piattaforma, sicuri di poter raggiungere il maggior numero di persone possibili. e ci troviamo a Castel San Pietro, nella parte di impianto di protezione civile Mendrisi 8, con a fianco un rifugio pubblico, 127 posti letto da questa parte e 500 posti letto dall'altra. Qui ci troviamo all'interno del rifugio pubblico, dove abbiamo un dormitorio già predisposto, con cuscini, materassi, letti, lo spazio per il deposito del materiale personale. Questo è un classico tipo di utilizzo o di preparazione per quello che concerne poi l'affitto della struttura durante l'anno all'esercito, piuttosto che ad associazioni a colonie o scuole, eccetera. Questo impianto di protezione civile è costruito in modo per avere un impianto di ventilazione che prende l'aria dall'esterno, la immette all'interno in tempo normale, senza passare da un filtro, in caso di contaminazione esterna, passa all'interno di un filtro di gas e viene immessa all'interno. Tutti i rifugi, impianti, impianti privati, o rifugi privati, funzionano col principio della sovrappressione, quindi una volta acceso l'impianto di ventilazione, la pressione all'interno è più alta rispetto all'esterno, quindi questo non permette all'aria esterna contaminata di entrare all'interno. Da quando è scoppiato questo conflitto, da parte di privati verso il nostro consorzio, abbiamo ricevuto diverse telefonate dove chiedevano di andare a vedere se il rifugio era posto, se era in ordine, andava bene, la gente chiede qual è il mio posto dove devo andare in caso di problematica. Allora il dispositivo funziona così, di principio viene attribuito un posto entro un raggio di due chilometri, quindi con un tempo di 30 minuti a piedi per recarsi in queste zone e questo lavoro viene fatto dal cantone con le rispettive regioni di protezione civile, con i comuni, quindi fin quando la confederazione non dà l'ordine perché non c'è un pericolo imminente, questa pianificazione non viene fatta. Attualmente in Svizzera comunque c'è un posto protetto per ogni abitante o residente sul territorio nazionale. I bunker pubblici del nuovo millennio nascono cercando di adattare già le strutture alle esigenze più diverse, dall'affitto ad associazioni private ai corsi di formazione, al volontariato. È il caso del nuovissimo rifugio da 560 posti ricavato sotto le scuole elementari di Cresciano, destinato anche al doposcuola dei bambini. Qui abbiamo i piani della protezione civile di Cresciano, i due piani, il piano con l'arredamento utilizzato in tempo di pace e il piano in caso in tempo di guerra, che speriamo non succeda mai, dove si può vedere che qui c'è la parte per il doposcuola, questa parte viene utilizzata come biblioteca e questo è un piccolo deposito per la scuola elementare. Bene, allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Come per martinità oggi faremo un disegno libero, quindi potete prendere i fogli, macchine colorate, in caso di allarme, al 75% dei confederati, basterebbe semplicemente scendere nel bunker scavato sotto la propria abitazione. Come è pronto a fare Roberto Uccelli, che è anche architetto ed ispettore della protezione civile e che ha disegnato personalmente il rifugio antiatomico familiare da sei posti nella sua casa di Mezzuvico. Il mio rifugio privato è stato realizzato secondo le istruzioni tecniche dei rifugi obbligatori, i TRP 84. Sono delle istruzioni che sono d'aiuto ai progettisti, architetti e ingegneri per realizzare i rifugi privati. Nel 1993 è stato approvato il rifugio e nel 1996 è stato collaudato. Questa è la porta blindata. La legge prevede che in caso di allarme i rifugi devono essere messi in prontezza entro cinque giorni. Siamo all'interno della struttura protetta. L'involucro è tutto in cemento armato, spessore 30 cm, come la soletta e la platea, e resiste alle bombe convenzionali, alle bombe nucleari, agli agenti chimici e agli agenti biologici. Qui troviamo l'uscita di sicurezza con la presa d'aria e il coperchio blindato. Vista la situazione particolare con la famiglia siamo andati a comprare un po' di scorta alimentare e qui potete vedere ho comperato biscotti, ho comperato pasta, riso, carne scatola, latte e acqua minerale. Ho pianificato la scorta alimentare per circa due mesi per cinque persone. Abbiamo un ventilatore e un filtro a gas. In mezz'ora posso ricambiare tutta l'aria all'interno del rifugio. Se dovesse mancare l'energia elettrica si deve prendere questa manuella, inserirla e poi azionare il meccanismo manualmente in questa maniera. Sabato abbiamo anche acquistato il fornello a gas. Dobbiamo ancora comprare le bombole, però il fornello per cucinare c'è. Tra i suoi primati nel mondo sotterraneo la Svizzera vanta anche quello del bunker antiatomico più grande del mondo. È quello del Sonnenberg, ideato negli anni 70 quando si costruivano le gallerie dell'autostrada Basilea-Lugano presso Lucerna. Nel 2006 il progetto iniziale di chiudere e attrezzare tre chilometri di tunnel è stato ridimensionato, passando da 20.000 a 2.000 posti. Ma la struttura centrale, nascosta sotto un parco giochi per bambini, è ancora pronta all'uso in 24 ore. Costata all'epoca 40 milioni di franchi, è diventata anche un'attrazione turistica dell'antica città di Lucerna. La caverna è un edificio sotterraneo di sette piani che sarebbe dovuto servire come centro logistico e di comando del rifugio. Qui avrebbero dovuto vivere e lavorare 700 persone in vari centri e uffici. ci sarebbe stato anche un ospedale d'emergenza con sala operatoria, un centro comunicazioni, la cucina, la lavanderia e perfino una prigione nel caso fosse servita per la sicurezza generale da garantire dentro i tunnel. Le gallerie autostradali non servono più come rifugi pubblici. Non sarebbero quindi chiuse, mentre questa stessa struttura potrebbe invece diventare un bunker e ospitare 2000 persone. c'è stata una sola prova generale del progetto e avvenuta nel 1987 a 11 anni dall'inaugurazione. Venne chiamata operazione formica e i tunnel vennero chiusi per una settimana. Erano gli anni di Cernobil e della grande paura atomica, ma il test mise probabilmente fine al progetto originario, relegandolo tra i cimeli della guerra fredda. Troppe cose infatti non funzionarono a partire dalla logistica. Ci si accorse poi che sarebbe stato un incubo in un'emergenza reale e dovendo chiudere in fretta le porte gestire 20.000 persone in preda al panico e quindi organizzare la loro convivenza una volta confinate sottoterra. Ci sono varie ragioni che hanno portato al ridimensionamento del progetto. La più importante è legata al tempo troppo lungo necessario per allestire i rifugi nei tunnel. per ospitare 20.000 persone si parla di 450 tonnellate di materiale da spostare e ci sarebbero voluti almeno due settimane per poterlo fare ancora prima di poter fare entrare le persone. Poi c'erano da considerare le condizioni di vita all'interno della struttura tutt'altro che facili. Ognuno avrebbe avuto a disposizione un metro quadrato di spazio e non oso immaginare cosa sarebbe successo qua sotto. Ricordiamoci dell'uragano Katrina nel 2005 a New Orleans quando 5.000 sfollati riempirono lo stadio e in pochi giorni la situazione andò completamente fuori controllo. anche il Ticino dalla fine dell'anno scorso può vantare un suo bunker spettacolare. Un rifugio pubblico da 858 posti è stato inserito nel progetto architettonico della nuova valascia la Gottardo Arena della Leventina fortemente voluta dalla società e dai tifosi dell'Ambripiotta. Grazie alle scelte più moderne di disegno e di costruzione firmate da Mario Botta una buona parte dei rifugi sotterranei blindati può essere oggi utilizzata come spogliatoie locali per la squadra di casa e per le società giovanili di hockey su ghiaccio anche se la struttura resta sempre pronta all'uso in caso di allarme. La partita inaugurale nella nuova valascia l'11 settembre scorso ha visto il brillante successo dell'Ambripiotta per 6 a 2 sul Friburgo. Il ricordo di quel giorno sembra lanciare anche l'augurio sempre più attuale che le guerre si giochino in futuro solo con le regole e i valori dello sport in arene come questa. Allora la Svizzera dei bunker che l'abbiamo detto all'inizio ha posto davvero per tutta la popolazione Mauro Gili abbiamo anche qualche dato a livello nazionale 360.000 bunker anti-atomici privati 9.000 rifornimenti fuggi pubblici sotterranei 1.300 strutture sanitarie protette allora tutto questo oggi ci fa sentire più tranquilli perché c'è una guerra in corso ma ci sono anche stati anni in cui si è dibattuto a livello politico stiamo esagerando non serviranno mai a niente allora guardando oggi le cose siamo stati lungimiranti o abbiamo comunque un po' esagerato? Col senno di poi è sempre facile trarre delle conclusioni chiaramente quando questi rischi venivano considerati come tali era ragionevole per il governo svizzero proteggere i propri cittadini perché il ruolo dello Stato è appunto prima di tutto difendere i cittadini dalle minacce di qualsiasi tipo se poi si vuole si prende un impegno e si vuole difendere la propria popolazione a questo punto da un punto di vista etico e morale è giusto tentare di offrire un posto al sicuro a tutti non solo a un'elite esclusiva e quindi abbiamo fatto una cosa democratica abbiamo deciso di proteggerci e l'abbiamo fatta per tutti naturalmente anche avendo i mezzi per farlo assolutamente la Svizzera è un paese molto ricco quindi ha la possibilità di offrire questa sicurezza a tutti i suoi cittadini concretamente oggi anche considerando quanto è successo in Ucraina quali sono le possibilità che la Svizzera sia vittima di un attacco nucleare chiaramente non lo possiamo escludere però non lo considero qualcosa di probabile direi in generale l'utilizzo di armi nucleari rimane molto improbabile l'utilizzo di armi nucleari contro paesi occidentali dell'Europa occidentale è ancora più improbabile che poi tra tutti i paesi occidentali venga scelta la Svizzera come obiettivo non c'è nessuna ragione che ci porti a questa conclusione ecco sappiamo naturalmente che la radioattività si sposta e quindi potrebbe succedere che la radioattività arriva da noi perché è stata usata una bomba da un'altra parte e allora le chiedo tornando invece al terreno di guerra attuale è possibile che Putin perché si accorge che non riesce a vincere questa guerra decida di fare ricorso alle cosiddette armi nucleari tattiche vale a dire delle bombe con un potenziale molto più ridotto rispetto a quanto pensiamo a Nagasaki e a Hiroshima anche qui chiaramente non lo possiamo escludere però non è qualcosa di probabile perché generalmente questo tipo di armi nucleari sono state concepite per influenzare l'esito di una battaglia come ad esempio l'avanzata nemica e ora non è questa la situazione della Russia la Russia si trova essa impegnata in un'invasione nell'invasione di un altro paese quindi dovesse usare delle armi di questo tipo andrebbe anche a colpire i suoi i suoi soldati esattamente quindi salvo una minaccia che il governo russo ha esplicitamente identificato ovvero una minaccia al governo russo stesso cioè se l'Ucraina dovesse tentare di spingersi più in là ecco salvo questo caso che l'Ucraina si è ben vista dal dal levitare non ha usato ad esempio missili a lungo raggio contro obiettivi in Russia proprio per limitare ogni tipo di escalation ecco salvo questo caso che non sia ancora a posto direi la probabilità è molto bassa allora restiamo nel campo naturalmente delle ipotesi di quelle teorie che ci auguriamo mai si possano verificare però immaginiamo che la Russia decida di usare un ordigno tattico potrebbero le radiazioni di questa esplosione arrivare fino da noi ci sono degli studi un professore del Politecnico del New Jersey Alexander Wallerstein ha studiato proprio questo tipo di scenario ha creato un programma un software che permette a chiunque lo volesse usare sul suo sito che si chiama Nuclear Secrets segreti nucleari di fare questo calcolo quindi inserendo una serie di parametri si può vedere quanto si sparge la radioattività di un'esplosione nucleare ecco usando questo sito possiamo concludere che questo rischio per la Svizzera non si pone cioè un'arma di tipo tattico anche dovesse essere usata al confine estremo occidentale dell'Ucraina non raggiungerebbe la Svizzera e voglio dire prego quindi siamo diciamo in uno scenario tutto sommato davvero piuttosto ottimistico quindi riguardo al pericolo che potremmo correre e c'è una cosa ancora in più da dire che probabilmente vivere in questi sotterranei a se non a 20.000 come avevano immaginato a Lucerna ma anche solo a 800-900 persone per diverse settimane e diversi mesi ecco rischia di essere un'operazione difficile dal punto logistico psicologico c'è qualche indicazione qualche studio qualche esperimento al riguardo è molto interessante un fotografo italiano un paio di anni fa ha scoperto che i bunker nucleari cinesi a Pechino dagli anni 90 sono stati messi in affitto quindi immigrati e studenti che non si possono permettere di affittare appartamenti regolari hanno trovato in questi bunker un modo per vivere nella città e chiaramente le condizioni di vita in queste condizioni sono tutt'altro che ottimali perché nonostante siano stati disegnati per fornire acqua potabile elettricità comunque in questi bunker non c'è luce naturale che crea tutti dei problemi anche psicologici e poi le condizioni sono tutti sono molto accampati gli spazi sono molto ristretti e c'è poca privacy ecco quindi diciamo siamo davanti ad un rischio molto limitato con delle prospettive difficili però insomma come paese possiamo essere contenti di avere queste strutture che tra l'altro nel filmato abbiamo visto col tempo abbiamo imparato ad usare anche per altri scopi tornando diciamo all'escalation di una guerra perché stiamo un po' facendo passare in rassegna le paure che le persone giustamente anche hanno è verosimile che la Russia possa immaginare di usare armi chimiche o biologiche e batteriologiche anche in questo caso non possiamo escludere questo scenario chiaramente ci auguriamo tutti che non avvenga però ad oggi non ci sono indicazioni chiare di questo pericolo o meno lo temiamo ma il governo americano è stato estremamente chiaro attraverso il suo presidente il presidente Biden nel dire che l'uso di armi chimiche e batteriologiche avrebbe trovato una risposta senza precedenti e questo vuole mirare proprio a scoraggiare la Russia dal fare uso di queste armi ecco abbiamo anche visto con due anni di pandemia l'uso di un'arma non so se sia batteriologica o biologica ma insomma si poi diffonde a tutti quindi la Russia dovesse usare un'arma del genere potrebbe poi il virus la malattia propagarsi anche all'interno dei suoi confini esattamente per armi che usano dei virus il problema è quello di risultare vittime delle proprie azioni quindi da un punto di vista di costi e benefici l'uso di queste armi non solo potrebbe scatenare una risposta occidentale molto più forte addirittura più forte di quella che abbiamo già visto ma la loro efficacia potrebbe essere significativamente ridotta proprio dall'effetto contrario notizia di oggi giusto per concludere questa carrellata di scenari che preoccupano le persone i soldati russi che presidiavano la centrale di Cernobil sembrerebbe si siano allontanati all'inizio di questa guerra c'era stata grandissima preoccupazione per il bombardamento della centrale atomica di Zaporigia se lo pronuncio correttamente ecco in quel momento abbiamo davvero corso un pericolo e qual era il senso di questa operazione non lo sappiamo possiamo solo fare delle congetture non sappiamo se ci fosse un ordine dall'alto di ottenere queste centrali oppure se fossero i soldati a decidere il loro obiettivo il rischio c'è stato perché a un certo punto i soldati russi hanno iniziato a sparare su questa centrale al punto che gli operatori della centrale stessa tramite gli speaker li mettevano in guardia che stavano mettendo in pericolo tutto il mondo quindi hanno proprio usato gli altoparlanti per dare direttamente esattamente perché i colpi di mortaio e cosa è stato utilizzato erano incessanti e molto forti fortunatamente non ci sono stati dei danni alla parte critica della centrale quindi i rischi non ci sono stati allora ci avviamo alla conclusione della nostra discussione di questa sera con un'ultima domanda la guerra in Ucraina ha se non scatenato rilanciato una corsa a riarmo la Germania in primis in Europa eccetera questo vuol dire che il mondo diventa meno sicuro con più paesi che decino di armarsi sì lei ha riassunto sostanzialmente le due grandi posizioni che stiamo vedendo in questi giorni cioè la posizione del fronte più pacifista che ritiene la corsa alle armi un pericolo proprio per un modo di incentivare ulteriori conflitti ulteriore guerra l'altro fronte invece ritiene che le armi siano lo strumento purtroppo necessario per garantire la pace è difficile dire quale dei due campi abbia ragione sicuramente negli anni a venire c'è da aspettarsi la continuazione del trend che abbiamo visto nell'ultimo decennio perlomeno ovvero di tensione internazionale tra le grandi potenze Mauro Giglio la ringrazio per essere intervenuto a Falò con le sue analisi le sue considerazioni siamo contenti di vederla una volta dal vivo l'abbiamo vista varie volte collegato invece dal suo posto di lavoro a Zurigo grazie ancora a voi allora siamo siamo